Ciao a tutti da Vittorio, è stato un weekend molto positivo per tanti ex laziali attaccanti. Cire Mobile ha fatto due gol nella prima di campionato per i Begiktas, Vedat Murici ha segnato contro il Real Madrid e addirittura Brian Pereira, ve lo ricordate? Quello che Tare disse che era nuovo Cavani, ha fatto gol. No, non sto recriminando del loro addio, non sto rimpiangendo il loro addio, semplicemente voglio segnalare questa cosa strana, anche Raul Moro ha segnato con i Valladolid. Sono molto contento per Ciro, per Vedat, anche per lo stesso Brian Pereira che si era perso. Non rimpiango Immobile, anzi, se mi seguite sapete che io ho detto che la Lazio doveva vendere Immobile un paio di anni fa, quando avrebbe incassato decinamente di più di 3 milioni di euro. Vedat Murici secondo me è stato sfortunato, è arrivato alla Lazio che giocava un calcio completamente diverso, da quello giusto per il Pirata, infatti a Mallorca sta facendo bene, ma nessuno degli attaccanti che ha segnato Domenica, secondo me, manca alla Lazio. Domenica ha segnato però anche Tati Castellanos, un gol importantissimo per la stagione della Lazio, un gol importantissimo per Tati Castellanos, perché l'argentino nella prima stagione della Lazio sicuramente non ha convinto, sicuramente non ha fatto bene, quest'anno non può permettersi un'altra stagione come la prima, dove si è impegnato, ha lottato, ma ha portato a casa pochi gol. Il centravanti deve segnare e quando sentite dire un centravanti o un giocatore d'attacco no, il gol non mi manca, non è importante segnare, eccetera, sono fregnacci e il centravanti entra in campo per segnare. Ogni domenica il bomber vuole buttarla dentro, perché segnare dà fiducia al centravanti e non segnare per tante partite toglie fiducia e poi lo vedi sul campo. Tati Castellanos lo scorso anno si vedeva che era un giocatore sfiduciato, un giocatore poco convinto. Del resto, e io l'ho detto spesso la passata stagione, si è visto in quelle partite in cui Castellanos segnava due giocatori. L'argentino, prima del gol, era un giocatore in fatica, poco convinto che soffriva. Dopo il gol è come se si sbloccasse e giocasse decisamente meglio. Non è un caso che praticamente Castellanos ha sempre fatto due gol. Contro Juventus, contro Frosinone, praticamente se segna poi Tati Castellanos si sblocca. E l'abbiamo visto anche domenica contro Venezia. Tati ha segnato subito e poi ha fatto un'ottima partita, dove è stato anche sfortunato, perché ha preso una traversa e ha preso un palo. Ecco, questo è il Castellanos che vogliamo vedere. Non solo, il gol di domenica è importante per un altro motivo. Perché Castellanos ci ha abituato a fare gol bellissimi, no? Gol assurdi, se volete. Pensate alla rovesciata contro Southampton in amichevole. Anche lo scorso anno Tati ha fatto gol bellissimi, ma ha sbagliato spesso quelli facili. Penso alla partita, alla semifinale di Coppa Italia a Lazio Juventus. In ritorno Castellanos ha fatto due gol, ma solo davanti a Perin ha sbagliato il gol che avrebbe mandato la Lazio in finale. Ecco, sono quelle le cose importanti, perché il bomber, e io penso sempre a Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, uno fa fatica a ricordarsi un gol in rovesciata di Inzaghi o un gol bellissimo da fuori aria. Inzaghi è quello che segna di tap-in, segna da un metro alla porta, però ne segna tanti. Quando il gol è facile, Inzaghi la buttava sempre dentro. E alla fine del campionato c'erano scritti 20-25 gol. E non c'era l'asterisco gol in rovesciata, eccetera. No, basta segnare. Ecco, è quello che chiediamo a Castellanos ed è quello che deve fare Castellanos. Sì, i gol belli sono sicuramente importanti, piacciono, eccetera. Ma il bomber deve fare 15 gol di rovesciata, di tacco, di ginocchio, di spalla, da un metro e mezzo dalla porta, da due centimetri. Il bomber deve segnare. Ed è per questo che quest'anno Castellanos è chiamato a segnare. E segnare subito la prima di campionato, secondo me, gli dà un'iniezione di fiducia importante. Non solo. Il gol è stato un gol non da tattica a Castellanos. Perché, vi vedo, siamo abituati a vedere l'argentino fare gol spettacolari. Quello di domenica è stato un gol da lottatore. Ha rubato il pallone al difensore di Venezia. Solo davanti al portiere. Non ha cercato il lob, il colpo di tacco, eccetera. Ha tirato un missile sul primo palo e ha pareggiato i conti per la Lazio. Segnando. Ecco, è questo quello che voglio vedere da tattica a Castellanos. E per questo il gol di domenica, secondo me, è importantissimo. Può essere fondamentale per la Lazio. Perché io dico che il bel gioco è importante. Perché se tu giochi bene, crei tante occasioni. Ma alla fine, conta chi segna di più. Per cui tu puoi fare dieci azioni, dieci tiri in porta, l'avversario uno. Ma se tu li sbagli tutti e dieci e l'avversario segna, vincono loro la partita. Per questo serve un centravanti forte. Serve un centravanti che la butta dentro. Ecco, tattica a Castellanos lo scorso anno non era quel centravanti. Quest'anno deve dimostrare di esserlo. Anche perché la Lazio ha preso DIA. Che può, da un certo punto di vista, insidiare il ruolo di titolare di Castellanos. Castellanos lo sa. Che dietro ha un centravanti che due anni fa ha fatto molto bene alla Salernitana. E che può prendergli posto. Per cui Tati era importante per l'argentino che partisse bene. Per mettere subito in chiaro le cose. E dire, beh, quest'anno io voglio essere il centravanti titolare. Quest'anno voglio arrivare a 15 gol. E quindi la partita di domenica secondo me è importante. Perché il centravanti ha bisogno di fiducia. A partire subito con un gol. Sendo meno iniezione di fiducia importantissima per Tati. Che, ripeto, ha fatto un'ottima partita. Perché bisogna essere onesti. Tati Castellanos poteva tranquillamente finire la partita con almeno una doppietta. Se non una tripletta. Segnali importanti. Perché purtroppo Castellanos troppe volte nella passata stagione ha avuto la chance e l'ha tirata fuori. Contro il Venezia ha preso tre volte. Lo specchio della porta. Questo è un segnale importante. Ripeto, Castellanos è un giocatore che ha bisogno di fiducia. Un po' come Cire Immobile. Immobile quando sente la fiducia dell'allenatore, dei compagni di squadra, è una macchina da gol. Guardate la Lazio. Il nazionale che invece non ha la fiducia, Immobile fa più fatica. Come ha fatto a fatica a Siviglia, eccetera. Castellanos è un giocatore molto simile. Ha bisogno di sentire la fiducia dell'allenatore, dell'ambiente, per rendere. E quindi partire subito con il gol, secondo me, è stato un messaggio importante. Ma secondo me c'è stato un altro messaggio che sicuramente aiuta Tati. Ovvero la convocazione in nazionale. Non so se vi ricordate. Lo scorso anno si è parlato di nazionale per Castellanos. Ma si diceva che, visto che entrare tra i convocati della lista argentina è difficile, Castellanos stesse cercando di ottenere la cittadinanza americana per essere convocato con gli Stati Uniti. Perché? Perché, insomma, convocato come centravanti in Argentina è difficilissimo. E per questo sembrava che Tati dovesse prendere la cittadinanza statunitense. Invece Lionel Scalloni lo ha convocato lunedì scorso per le prossime partite della nazionale. E questo, secondo me, è un altro segnale importante. Perché, da un certo punto di vista, per la Lazio aumenta il valore del cacciatore, perché adesso è stato convocato nella nazionale. Ma anche per Tati gli dà grandissima fiducia. Perché qua non parliamo solo di Marco Baroni, allenatore della Lazio, che dice che Castellanos è il mio centravanti e forte. Qua è anche l'allenatore della nazionale argentina. Non proprio l'ultima del mondo, no? La nazionale argentina è una delle nazionali più forti del mondo. Ed essere convocato è un segnale, secondo me, importante. Ma anche un segnale che deve dare tanta fiducia a Tati Castellanos. Adesso non ci illudiamo, non dico che adesso Tati diventa il centravanti titolare della nazionale argentina. Ma questo è un segnale importante che, secondo me, può dare un'iniezione di fiducia all'argentino che può rendere di più ancora con la Lazio. È tutto un discorso di fiducia per Castellanos. Fisicamente c'è. Ha buoni piedi, è bravo anche di testa, è un attaccante completo. Però deve buttarla dentro, cosa che lo scorso anno non l'ha fatto. Ecco, quest'anno, partendo con il gol, partendo con la fiducia dell'allenatore e anche dell'allenatore dell'argentina, secondo me può essere una stagione diversa per Tati Castellanos. Un po' come fu quella di Caeseto il secondo anno con la Lazio. Ecco, io me lo auguro perché ne abbiamo discusso molto quest'estate. Sì, bel gioco, sì gli esterni, eccetera. Però poi alla fine sono i gol che fanno la differenza. Lo scorso anno la Lazio ha segnato il contagocce, infatti è finita male in classifica. Quest'anno serve che i gol arrivino a grappoli e chi è che può segnare? Tati Castellanos, quello è il numero uno. Possiamo chiedere i gol a Zaccagni, possiamo chiedere i gol agli esterni e ai centrocampisti, ma poi quello che deve fare più gol è il centroavanti. E quindi, secondo me, questo è stato un inizio molto positivo per Tati Castellanos e ci auguriamo che sia solo l'inizio di una stagione completamente diversa rispetto a quella della passata stagione. Una stagione che consacri Tati Castellanos come uno dei centravanti più forti del calcio italiano. Anche perché, mi dispiace dirlo, non è che in Serie A ci sono questi grandissimi centravanti, purtroppo. Il campionato italiano è abbastanza calato e quindi Tati Castellanos potrebbe veramente fare molto bene e ce l'auguriamo perché i gol di Castellanos servono tantissimo al Lazio. Ovviamente questo è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivetevi un commento qua sotto e noi ci ritroviamo dopo con un altro video. Ciao ragazzi!